Donazione per non restare indifferenti. E' questo il messaggio impresso nel volantino informativo che sarà a disposizione degli utenti all'ufficio anagrafe del Comune di Arzegnano. L'assessore sociale e vice sindaco Alessia Bevilacqua, accompagnata da Marisa Brugnolo, presidente dell'Associazione Donatore di Sangue Onlus di Arzegnano, ha posizionato all'interno del front office del Comune, in Piazza Libertà e in Biblioteca, una cassettina che sarà a disposizione dei cittadini, soprattutto i più giovani, affinché possano ottenere informazioni sulla donazione di sangue ed eventualmente depositare una promessa di donazione. Con questa iniziativa l'amministrazione, a fianco della Fidas, lancia così un appello, rivolto a tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni di età. Ai nuovi diciottenni verrà infatti consegnato il materiale informativo che illustra le modalità per diventare donatore e l'importante valore sociale e sanitario di questo gesto. Che cosa state facendo qui all'ufficio anagrafe? Allora, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale se potevamo mettere delle cassettine per trovare nuovi donatori. Ci hanno dato il consenso e siamo molto contenti. Questo serve per la popolazione ad incrementare nuovi donatori dai 18 ai 60 anni. Che cosa troveranno i cittadini nell'ufficio anagrafe quindi? Allora c'è una promessa di donazione che dovranno compilare e inserire nella cassettina e un brochure dove indicano cos'è la donazione e c'è anche il numero di telefono del centro trasfusionale di Montecchio con gli orari per prenotarsi perché adesso è tutto su prenotazione e in più c'è il numero del gruppo se qualcuno vuole altre informazioni. Come amministrazione vogliamo essere a fianco e sostenere naturalmente l'associazione donatore di sangue di Arzegnano proprio perché vogliamo sensibilizzare tutta la popolazione ma in particolar modo i giovani sull'importanza di questo gesto solidale e sul fatto che naturalmente donare il sangue significa veramente salvare la vita donare il sangue è un salvavita per i malati, lo sappiamo. Si punta appunto, puntiamo sui giovani perché i giovani naturalmente possono garantire un ricambio anche generazionale e quindi dare anche continuità alle donazioni. Sappiamo che i nostri giovani, che sono appunto il nostro futuro sono sempre pronti a mettersi in prima linea, in prima persona con un grande senso di altruismo per cui è importante coinvolgerli. Ai neo 18 anni daremo infatti, consegneremo questa promessa intanto prima di tutto una locandina con tutte le informazioni e poi questa promessa di donazioni nella speranza appunto di coinvolgerli maggiormente, ecco con questo grande gesto solidale e civico. Grazie.